Buona giornata a tutti, qui vi parla è Claudio Simeoni insieme a Francesco dell'Istituto Mediterraneo di Politeisti vi ricordo che sono Claudio Simeoni, meccanico per indizia a Stragone e Guardiano dell'Anticristo al mio indirizzo è piazzale parmesano 8 Marchiera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo di Politeisti Casella Postale 53 Malostica Vicenza Francesco vuoi dire due parole brevi sulla radio? Sì, diciamo che come sempre noi lo ricorderemo fino alla scadenza c'è il 5 per 1000 da dare salute all'ambiente per chi ha bisogno delle informazioni, delle spiegazioni di come fare visto che anche Radio Gamma 5 adesso siamo uniti di un blog, do l'indirizzo del blog che è http2.com.blogspot.com perciò anche gli ascoltatori che vogliono partecipare alla vita della radio tramite un blog hanno questa possibilità, questo strumento e li trovate le indicazioni sul come dare il 5 per 1000 e perché dare il 5 per 1000 a salute all'ambiente che sostiene Radio Gamma 5 Bene, questo era doveroso e necessario per la radio Bene, allora Francesco tra un attimo qua non ci siamo Allora, Francesco di che cosa parliamo? A parte quello che è successo ieri Passiamo dal 5 per 1000 e passiamo all'8 per 1000 Passiamo all'8 per 1000, giusto? Sì, è già significativo purtroppo siamo in fase di indicazione di redditi e appunto oltre all'appello dati il 5 per 1000 a salute all'ambiente l'8 per 1000 datelo allo Stato Io ho già detto purtroppo quest'anno tutti i governi a cominciare dalla finanziaria del 2005 hanno depredato parto via i soldi dati allo Stato hanno svuotato le casse hanno finanziato pochissimi progetti soldi destinati purtroppo all'8 per 1000 allo Stato forse perché vorrà incoraggiare la Chiesa Cattolica e d'altronde anche nell'ultima finanziaria c'è stato un notevole incremento se sarà tempo lo ricorderemo ai contributi per la Scuola Cattolica probabilmente vorranno sostenere e incoraggiare la Chiesa Cattolica e la Scuola Torresto e raffanno in maniera tale di svuotare e privare l'8 per 1000 allo Stato di una valenza, di un'utilità di salvare i beni culturali, i beni ambientali quest'anno nella ripartizione pubblicata soltanto 22 associazioni hanno avuto contributi rispetto a una richiesta di oltre 600 c'è da protestare c'è da essere veramente arrabbiati per questo c'è veramente da prendere ai politici essere buoni a prenderli a fattelli sul viso proprio per questo comportamento però bisogna dare un segno di discontinuità con quello che sta avvenendo perciò firmate lo stesso per lo Stato alla fine se i politici dovessero cambiare si potrebbe avere qualche politico che destina l'8 per 1000 a cose migliori la Chiesa Cattolica e tutte le organizzazioni religiose sicuramente non fanno un buon investimento perché no, investono i soldi per stuprare i bambini perché li investono negli oratori li investono nelle parrocchie e li investono finanziando preti stupratori di bambini per cui il vostro 8 per 1000 dato alla Chiesa Cattolica serve solo per stuprare i bambini costruire il disagio sociale e costruire grandi problemi come il bullismo come la disoccupazione come l'emarginazione sociale questo serve dare l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica cioè serve per saccheggiare la società civile non è che lo usano per altre cose sì, poi c'è volevi poter partire con l'attualità proprio quella imminente quella proprio che c'è più vicina o volevi partire da qualcos'altro? Francesco il problema è di partire da una cosa in questo periodo con le notizie che sono uscite ieri l'altro ieri a Rignano Flaminio e ricollegate con le notizie che giungono da Firenze e da mettersi le mani nei capelli cioè il problema della Chiesa Cattolica che noi italiani stiamo scontando è il problema dello stupro sistematico di bambini perché anche a Rignano Flaminio l'arrestato principale era un organizzatore di intrattenimento di trasmissioni televisive di intrattenimento per ragazzi era uno che si occupava per la Chiesa Cattolica di dire come dovevano essere i programmi televisivi per i ragazzi cioè questo dalle accuse stuprava bambini dell'asilo e diceva alla RAI diceva a Canale 5 diceva ai media come dovevano comportarsi nei confronti dei ragazzi cioè questo veniva usato dai sciacalli che dicono che non c'è deve essere il nudo non si devono essere le scene di nudo veniva usato per distruggere la società civile e predisporre le persone perché lui potesse stuprare i bambini cioè questo era un consulente dei vescovi italiani ce ne rendiamo conto cosa significa cioè non è che fosse una persona qualunque e tutto questo giro di pedofilia il paese dice ma erano delle brave maestre insegnavano il catechismo e andavano in chiesa cioè noi ci troviamo di fronte al terrorismo più violento e più abietto che viene fatto sparando adossi i bambini violentando i bambini proprio negli oratori proprio nelle parrocchie sono le parrocchie organi di distruzione di massa in questo paese la vicenda di Firenze Francesco si la vicenda di Firenze intanto il responsabile numero uno è Ratzinger di aver stuprato le persone perché perché per il codice civile italiano per il codice penale italiano Ratzinger era conoscenza di tutta la sequenza degli stupri che sono venuti perché loro gli stuprati hanno scritto a Roma hanno scritto al vescovo e il vescovo ha trasmesso per cui Ratzinger era conoscenza e non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria tant'è che il pubblico ministero di Firenze che si è ostra beh non ho presente quello che si è occupato con le mostre di Firenze Canessa no non Canessa è un altro beh comunque insomma ha da dire per i predi cattolici per i vescovi cattolici noi non esistiamo alto fermi tutti il pubblico ministero di Firenze il procuratore generale di Firenze dice noi per i vescovi non esistiamo oh cocco tu sei là come istituzione di questo paese sono i vescovi che devono mettersi in ginocchio avanti a te sono questi bifolchi terroristi che devono mettersi in ginocchio tu sei le istituzioni sei lo Stato te rappresenti la Costituzione te rappresenti le leggi italiane che dovrebbero essere uguali per tutti e tu dici per loro noi non esistiamo ma tu devi andare a casa sei un deficiente come te lo permetti questo? beh diciamo l'intenzione con cui io non ho letto la dichiarazione però lo poteva benissimo dire sai noi rappresentiamo l'applicazione della legge però per la Chiesa Cattolica non si riconosce nessuna autorità non è che io la leggerei soltanto in negativo potrei dare anche un'intervazione del genere cioè dire cavolo io che sono qui che dovrei tutelare i diritti dei cittadini e far applicare le normative per tutti e per i vescovi noi non esistiamo io non so ma il vero problema è che la procura della repubblica doveva spiccare mandato di cattura o mandato di di inquisizione rispetto a Ratzinger perché Ratzinger sapeva anche se Ratzinger era un capo di stato straniero doveva comunque spiccare mandato perché sai dai è stato già punito quello di Firenze li hanno impedito per 5 anni di dirla messi in pubblico sai che pena pesante questo per 20 anni ha stuprato ragazzini sì è giusto sai per un prete per 5 anni non poter dire le messe in pubblico quale sofferenza rappresenta mi sembra una pena dal punto di vista cattolico molto molto importante molto significativa insomma io ho un quale la signora stampa in macchina adesso non ce l'ho qua di quel fatto ne ho parlato giovedì scorso sai gli hanno dato 5 anni di interdizione a dire le messe in pubblico la Chiesa Cattolica è stata severissima in questo caso quando noi diciamo che la Chiesa Cattolica è una setta criminale che separa le persone dalla società civile non lo diciamo perché la Chiesa Cattolica ci sta sulle scatole ma perché la Chiesa Cattolica ha un assoluto disprezzo dell'autorità civile e lei si ritiene al di sopra e al di là della legge esattamente come il suo dio al macellaio di Sodoma e Gomorra che ritiene di non dover essere punito per i delitti che commette ritiene di avere l'impunità assoluta se voi pensate che questo metodo di pensiero poi si cala nella società noi abbiamo dei disastri da sindrome da onnipotenza fatta sia nel bullismo a scuola sia nel marginato sia nel camorrista sia nel prete che si ritiene al di sopra di ogni cosa abbiamo dei comportamenti che sono effettivamente dannosi per la società civile se non si rispetta la legge c'è la punizione c'è la pena ma il punto centrale della nostra costituzione è che la pena è uguale per tutti così il giudizio morale è uguale per tutti so benissimo che qualcuno dice ma io il mio reato non c'è mica fatto io il reato d'accordo ci sono questi giochi ma quando le cose sono palesi la legge è uguale per tutti e si applica sia il macellale di Sodoma e Gomorra sia il pazzo di Nazareth sia la CEI sia Razziga sia a Francesco che a me si è chiaro questo non siamo al di fuori al di sopra della legge so perfettamente che i magistrati sono più bravi ad applicare la legge sulle persone deboli in difese so che sono molti di loro sono dei vigliacchi che si cagano sotto davanti al potere lo so l'ho sperimentato non c'è problema però il nostro sistema giuridico è questo al di là dei comportamenti dei singoli magistrati beh sai c'è un fatto significativo questo fatto di Roma questo fatto che dimostra il come nella cultura italiana sia normale pensare che i bambini possono essere trattati in questa maniera d'altronde questi docenti questi insegnanti hanno avuto degli esempi ben concreti nella società in cui vivono perché sai vedere un bambino che ha bisogno di essere battezzato cresimato che deve andare alla comunione che deve fare la prima confessione che è un pecatore sai d'altronde è un insegnante che in quella cultura acquista un disprezzo verso i bambini e la cosa appunto è veramente mostruosa quello che è successo si aggiunge però un fatto che dopo questa notizia esce viene riportata e poi all'improvviso si comincia ad attaccare questo fatto di cosa del satanismo cosa che non è uscito all'inizio sai cosa è successo nel frattempo perché è stato all'improvviso questo bisogno di attaccare questa definizione che non c'era all'inizio è successo qualche evento qualcosa di significativo di particolare si è successo a mio avviso è una mia interpretazione logicamente che tra c'è stato un prima e un dopo c'è stata una cosa che ha spezzato questo che ha interrotto questa continuità e che ha trovato in qualcuno il bisogno di attaccare questo satanico io appena riferisco al Tg2 quello delle 20 e 30 esatto ha fatto affermazione in cui Luca Barbareschi che non mi risulta essere un integralista neanche però un laico super laico o un anticlericale o qualsiasi altra cosa Luca Barbareschi va al Tg2 10 minuti e dice che lui quando era ragazzo è stato violentato dai padri spirituali nell'istituto religioso in cui era non da un padre ma di padri spirituali questo l'ha detto durante una trasmissione del Tg2 ha detto anche che è cresciuto che ci ha impegnato tutta la vita per liberarsi di questo problema è andato in questo istituto e per chiedere che gli facessero delle scuse vabbè io sinceramente le scuse non mi piacciono mai però lui è andato perché sentiva il bisogno che questi qua mettessero i loro errori o le loro colpe e gli chiedessero scuse mi hanno preso in giro mi hanno detto che ero vanneggiavo non mi hanno neanche risposto mi hanno trattato malissimo a un certo punto aggiunge che in Italia il problema della pedofilia è grossissimo e soprattutto perché esiste una copertura da parte della Chiesa Cattolica ha detto sì logicamente lui è separato ha detto sì Ratzinger ha fatto molto ha cercato di tirare via le coperture che ci sono vabbè questo probabilmente perché non aveva forse il necessario coraggio di dire le cose come stanno però ha detto c'è la Chiesa Cattolica è coinvolta con la pedofilia la Chiesa Cattolica dovrebbe fare chiarezza la Chiesa Cattolica dovrebbe collaborare questo l'ha detto Luca Barbareschi durante una trasmissione televisiva e durante un telegiornale bene parole significative anche perché vengono da una vittima che ha fondato un'associazione una fondazione che si deve occupare dei bambini che subiscono violenza lo devo l'iniziativa che tutti quanti io sarei contento finché ce ne sono che i bambini violentati dei preti avessero l'energia di diventare come Luca Barbareschi possa piacere come attore o come come idee politiche come schieramenti però se i bambini che hanno subito violenza dai sacerdoti o da adulti avessero la possibilità di diventare coraggiosi e almeno di dire pubblicamente quello che hanno subito come Luca Barbareschi sarei contento purtroppo sappiamo che per un Luca Barbareschi che subisce violenza in istituti religiosi ce ne sono migliaia che sicuramente faranno una vita veramente misera infame bene dopo questo particolare che logicamente è una cosa eclatante pubblica che ha uno spazio enorme all'improvviso i giorni dopo comincia ad apparire che il fatto di Roma della violenza bruttissima sui bambini è un fatto anche satanico come mai questo particolare così interessante così curioso su cui la stampa si puterebbe volentieri uscito dopo sai in questa radio si dice che il caso non esiste non esistono neanche le coincidenze e io penso che il radiogramma 5 quando afferma questo dice una cosa vera il problema è che che le persone si mascherassero davanti ai bambini o che facessero delle cose per impaurirli li drogavano oltretutto questo è fuori discussione il problema è che qui la chiesa cattolica è dentro fino al collo qui è tutta la chiesa cattolica è tutta salt 2000 che è la tv dei vescovi italiani che è dentro fino al collo e infami sono i suoi programmi televisivi che hanno lo scopo di aiutare a stuprare i bambini perché siamo a questi livelli perché questa è la cosa veramente grave ora che si voglia tirar fuori il discorso dei riti satanici vi ricordo che gli unici a praticare il satanismo morboso come piace come piace ai cattolici possono essere solo che i cattolici perché l'unico satanismo morboso che sta nella testa dei cattolici è solo fatto dai cattolici perché solo loro hanno il bisogno di perversione sessuale per per riuscire a sfogare le fobie che la verginità l'odio per il sesso la repressione sessuale è stata loro imposta per cui che si travestano come diceva l'articolo della repubblica si mascheravano da giochi per le violenze sui bambini fra l'altro facevano la parte del lupo che morde e lo scoiattolo i bambini raccontano che durante i giochi erano visitati da un dottore che li toccava in tutte le parti del corpo è questo gioco che è stato fatto scoprire la verità l'ordinanza si sofferma a sospetti ancora poco chiari che fanno pensare a rituali satanici in realtà probabilmente era mascheramento il mascheramento finalizzato a far paura ai bambini a costruirli degli incubi a sottometterli i bambini descrivono uomini incappucciati vestiti tutti di nero il gruppo di pedofili avrebbe minacciato i bambini con spaventosi racconti di diavoli che li avrebbero portati via dalle loro mamme se avessero parlato con qualcuno cioè era chiaramente una tecnica di terrorismo nei confronti dei bambini partendo proprio dal fatto che i bambini avevano subito un'educazione cattolica esatto perché se andavano da mia figlia a dire il diavolo ti porta via li rideva il muso già a tre anni per cui potevano farlo soltanto perché i genitori avevano già stuprato i loro figli raccontandogli le paure dei cattolici per cui provate a vedere la sequenza anche il genitore che incute terrore nel figlio sottomesso a Dio la Madonna e il diavolo e questi che stuprono il bambino sfruttando la sottomissione che il genitore ha inculcato del bambino e allora capiamo il discorso della famiglia di Ratzinger perché Ratzinger vuole quel modello di famiglia guarda io ho visto sul fatto del genere ho visto chiaramente il fatto che i genitori sono responsabili di questo perché se il bambino crede al diavolo e gli crei paure non è certo perché le pensa lui al diavolo è perché una cultura cattolica cristiana li ha inculcato io ho avuto l'esperienza ad esempio di vedere due bambine una educata da una famiglia cristiana da una pagana a un certo punto la bambina cristiana viene a portare la comunione e parlando con la bambina pagana gli dice ma fatto vero perché sia la bambina sia la famiglia che ha vissuto questa cosa la bambina dice fa no ma io devo fare la comunione devo comportarmi bene altrimenti mi hanno detto i miei genitori che se non mi comporto bene il diavolo viene e mi porta via anche la bambina pagana gli ha risposto fa io mi comporto tante volte male con i miei genitori non mi ha avuto il diavolo a portarmi via fatto vero nel senso che c'è proprio le persone mi hanno raccontato la bambina stessa allora cosa significa chiaramente che se noi educhiamo i bambini alla paura al terrore di fronte a qualsiasi cosa non impareranno né a difendersi né a tutelarsi né a saper rispondere se poi se gli insegna che si devono portare l'autorità soltanto perché uno è più adulto e devono obbedire anche se è scemo giusticamente di fronte a degli insegnanti che sono dei disgraziati che sono veramente delle persone inumane per essere un semplice cosa avranno paura che si comporteranno in questa maniera ma la responsabilità è dei genitori che li hanno mandati a catechismo e che gli hanno insegnato che ci sono i diavoli cattivi che li possono portare via se gli avessero insegnato che esistono le fattine i folletti e le ninfe e gli ignomi sicuramente questi bambini avrebbero avuto meno angoscia meno paura perché provate a pensare a un bambino che si racconta che esiste un qualcosa che lui non vede non percepisce e chi lo può portare via e allora se questi hanno potuto fare e hanno agito in questa maniera così brutale così violenta così veramente indefinibile dal punto di vista umano verso dei bambini l'hanno fatto anche perché hanno avuto un contributo dalla cultura cattolica che questi bambini hanno avuto e dalle famiglie che pensavano che fosse giusto dare un valore cattolico perché insegnare a un bambino di dire se il diavolo che viene ti porta via perché si deve creare il terrore la paura nei bambini che senso ha educare i bambini in questa maniera e ci sarà appunto da chiedersi e allora di conseguenza se quei bambini hanno subito violenza così atroce così veramente inumana una forma di responsabilità non è anche di quei genitori che gli hanno dato dei principi in cui insegnavano a sottomettersi fermo per Francesco è una pagina è una pagina web è brevissima non porto via si intitola hai chiesto il permesso agli ignomi passeggiare in un bosco nel tardo autunno e raccogliere funghi noci castagne corniole nocciole eccetera sono là a disposizione spesso i boschi sono abbandonati e dopo una salutare passeggiata si può mangiare qualche noce qualche corniola quando hai allungato una mano hai chiesto il permesso agli ignomi del bosco in fondo le persone che vivono nelle città non sono parte del bosco sono ospiti per qualche ora o per qualche giorno eppure troppo spesso prendono come se ciò che trovano fosse loro di diritto compresi i bambini abbiamo visto no? se fossero parte del bosco o parte della vita saprebbero che ogni essere di quel bosco ha le sue emozioni vita ha le sue strategie d'esistenza intelligenza ha consapevolezza delle proprie trasformazioni ed esercita la propria volontà per costruire i migliori adattamenti possibili nel corso della sua esistenza entrare in un bosco significa immettere una variabile in quell'insieme una variabile che si esprime in maniera veloce nell'oggettività e alla quale gli esseri del bosco si adeguano con i loro tempi e le loro trasformazioni gli ignomi sono le consapevolezze del bosco e il chiedere permesso consiste nell'essere consapevoli di dove si è e di cosa si fa e dei mutamenti che provochiamo e stimoliamo con il nostro agire sembra facile parlare di un bosco fatto di noci faggi, abeti o pini ma che ne è di tutti gli altri boschi che attraversiamo nel corso della nostra esistenza il bosco città il bosco posto di lavoro il bosco asilo infantile tanto per riprendere il discorso sono boschi spesso abbandonati in cui troppe persone prendono con mani veloci prepotenza e avidità quanto è contenuto in essi senza chiedere il permesso agli ignomi che compongono quei boschi in fondo la vita fisica è limitata nei mutamenti poi finisce dieci anni o cento anni sono attimi davanti all'eternità dell'universo eppure troppo spesso gli uomini prendono dalla società in cui vivono prendono e prendono come se fosse un loro diritto non considerano che ciò che prendono lo prendono ad esseri che hanno emozioni strategie d'esistenza intelligenza consapevolezza delle proprie trasformazioni nelle quali esercitano la loro volontà per costruire i migliori adattamenti possibili nel corso della loro esistenza entrare nella vita nascere significa immettere una variabile nell'insieme in cui si nasce una variabile veloce nell'oggettività sociale alla quale gli esseri sociali rispondono adeguandosi con i propri tempi e le proprie trasformazioni dunque hai chiesto il permesso agli ignomi oppure hai preferito l'atteggiamento cristiano non ti curare di loro guarda e passa per te erano troppo piccoli di insignificanti gli ignomi per chiedere loro il permesso si muore come si è vissuto hai chiesto il permesso agli ignomi? beh sai Vili insegnare e chiedere il permesso agli ignomi significa chiaramente sapersi rapportare poi il rispetto per la vita si ma quando poi noi abbiamo altri genitori prendono dal Corriere della Sera la notizia Moj contro sky per il nudo maschile il Moj movimento italiano genitori accusa il canale satellitare sky vivo per avere mandato in onda sulla trasmissione dell'uomo perfetto in fascia protetta sceni di nudità maschile per forza devono aiutare i cattolici a stuprare i bambini questi sì allora provate a pensare che genitori che possono essere questi sul fatto che creano un dramma perché un bambino vede un nudo maschile allora io penso che se dei genitori hanno una funzione di educare i figli di aiutarli di sostenerli sia di affrontare altre cose e io lo dico e lo ricordo ogni tanto e facciamo il parallelo se un bambino vede il proprio genitore che protesta perché in televisione ci va un nudo maschile che immagine può avere del mondo che sensazione può avere col suo corpo come qualcosa di indegno io penso che ci siano cose più volgari cose più mostruose o più veramente terrificanti ma a perdere il proprio tempo perché un bambino ha visto non dico porno in televisione o un film erotico perché un bambino vede un nudo maschile allora a questo punto provate di Michelangelo lo buttiamo via allora sì sì sicuramente sì sai d'altronde l'integralismo in tutti i sensi agis in questo senso cristiano musulmano ebraico non c'è di differenza ma allora se un genitore si stupisce si vergogna protesta perché vede un nudo maschile i bambini cosa penseranno del nudo maschile e del proprio corpo e cosa succederà nella loro sessualità e cosa succederà quando ad esempio incontreranno dei mostri come questi qua di Roma che sicuramente non hanno anche il coraggio di andare a parlare con i propri genitori allora sarebbe meglio che esiste sì io sarei d'accordo che il movimento italiano genitori agisce per tutelare i minori ma penso che i bambini e le persone non siano da tutelare verso un'immagine di un nudo maschile anche perché la cosa dice fra virgolette dice perché hanno mandato in scene di nudità maschile ma la nudità maschile è forse un problema? beh se i bambini e la Repubblica saprebbero che sesso i greci più attivi del mondo avanzano i cinesi gli italiani quinti cioè siamo alla misurazione della prestazione sessuale che è diventata una normalità però l'importante è mettere i bambini nelle condizioni di essere stuprati alla fine questo è il discorso mentre ormai tutta la scienza la psicologia tutta la sociologia ormai ha capito l'importanza e la funzione del sesso all'entrano della società e cerca di aprire tutti i varchi possibili e immaginabili proprio per impedire la formazione di fobie per impedire la formazione di problemi sociali che dopo si riversano bene qualcuno invece vuole costruire questi problemi sociali come il Moïse per esempio il cui ha una sola funzione aiutare Ratzinger a stuprare i bambini costringendo i ginocchi davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra si sai poi il fatto che si creano così persone fondamentaliste crea sempre dei problemi io voglio prendere ad esempio una notizia che abbiamo ricordato che tutti quanti sanno di quegli tre cristiani sgozzati in Turchia bene questo qui sono sgozzati ed è un'azione che non si può approvare e che non si deve fare ma da tonda rientra sempre all'interno del monoteismo perché si può convertire allora diciamo una cosa diamo un'informazione se un monoteista sa che deve andare a salvare gli altri deve portare la verità agli altri lo farà sempre andrà a darlo a disturbare poi quando si devono suddividere il branco lì diventa un problema allora prendo dal Corriere della Sera di giovedì 19 aprile quello che ha dichiarato un monsignore relativo al fatto della Turchia aperte virgolette dice noi cattolici ovviamente siamo solidali con chi è vittima della violenza anche in questo caso lo siamo ma a quanto pare si tratta di uno di quei gruppi che svolgevano una propaganda biblica in ambiente dove non ci sono cristiani offrendo invageli ai musulmani e provocando la loro reazione ed ecco che i gruppi fanatici reagiscono dicendo le virgolette le mette il vescovo che andate facendo perché cercate conversione tra noi noi crediamo in Allah andate piuttosto dei pagani a fare il vostro proselitismo chiusi via venite 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 noi la leggiamo la bibbia non vi ammazziamo noi la bibbia la leggiamo i vangeli noi li leggiamo ecco sarebbe da chiedersi ma come mai un cristiano ha bisogno di mandare a convertire gli altri come mai un musulmano ha bisogno di convertire gli altri e come mai i pagani non hanno bisogno di convertire nessuno allora si trova giusto nel pensare che ci siano fatte le conversioni ma perché io dovrei andare a rompere le scatole a un altro dicendo che io ho la verità che io porto la parola di Dio se noi entriamo in questo concetto in cui diciamo detentore della verità e che la verità ci appartiene e che gli altri sono stupidi e non se ne accorgono sotto il punto potremmo sgozzarli e allora giustamente questi gli hanno detto ma noi siamo monoteisti perché ci dobbiamo rompere le scatole fra di noi da noi siamo sottomessi che voi siete sottomessi al Dio dei cristiani e io al Dio di Allah andiamo per scattare i pagani che non lo scattano a loro e allora di conseguenza proprio il monoteismo è il problema e il problema è quando uno pensa che esiste un Dio creatore e quando esiste anche un discorso che gli altri devono essere convertiti la conversione fa parte appunto della follia fa parte anche dell'ignoranza e di conseguenza noi dovremmo essere a criticare sicuramente comportamenti violenti però queste persone che vanno a fare proletitismo logicamente sono sempre persone che danno fastidio perché ricordo che i presunti martiri cristiani in realtà era gente che andava a essere inopportuna violenta e andava a distruggere i beni degli altri quando mai un pagano si è mai segnato di andare a persecutare qualcuno per motivi di fede logicamente quando un cristiano arrivava e distruggeva i templi o attaccava le statue era giusto è normale è doveroso che qualcuno reagisce e gli faccia sedere e diventare quando ci soffurono delle cosiddette fra virgolette persecuzioni dei cristiani tipo Diocleziano e altri in realtà c'erano state molte rivolte dei messianici e i messianici erano cristiani e ricordiamo fra le altre cose la distruzione di Cirene e la distruzione di Salamina ad opera dei cristiani ed eravamo nel 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 cento centodieci mi sembra dopo Cristo per cui i cristiani le hanno fatte di cotte di crude per essere fra virgolette segnalati perché poi alla fin fine non furono neanche perseguitati in quanto cristiani ma in quanto associazione per delinquere associazione terroristica si direbbe oggi Francesco vuoi citarmi vuoi citarmi qualcuno che piace tanto a Ratzinger ma io volevo introdurre il discorso di Ratzinger con un'altra cosetta bene allora dice Ratzinger vescovi messicani lottate contro la libertà d'aborto hm